Amici di M, siamo ancora con voi, è quello nel Milano, quello anche più alta, come potete vedere ha un buon shawani body, tutto in alluminio, ricorda un po' il vecchio Legend, andiamo a vedere un attimo il cellulare, ovviamente è la nuova test, quindi questo blocco caratteristico, telefono al nuovo Android 2.3 e come potete vedere è abbastanza fluido, fotocamera da 5 megapixel con 3 led e il tasto Facebook anche qua come in chacha, quindi piacendo questo tasto anche come vi ho fatto vedere prima possiamo condividere le nostre foto in tempo reale e tutto quello che ci pare sul nostro accanto di sito, il telefono è molto fluido, come potete vedere ha i 4 tasti di tasto di Android qua, è anche molto leggero, ha una fotocamera frontale per le videochiamate e i vari sensori di luminosità scritta, vediamo in alto, ci sono tutte le notizie, alcuni programmi aperti e delle impostazioni rapide molto comode, possiamo attivare lo spot di GPS eccetera. Per questo telefono è tutto, al prossimo cellulare, arrivederci.